Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. Ancora l'inchiesta Dirty Soccer in primo piano e il day after rispetto al giorno della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale federale che ha spedito in serie D il Teramo e anche il Savona e sono arrivate anche le inibizioni per il presidente Campitelli e per il DS sospeso Marcello Di Giuseppe. Come detto il giorno dopo le sentenze allora siamo stati quest'oggi a Teramo proprio per tastare il polso alla tifoseria, agli sportivi, alla cittadinanza e sentiamo che cosa hanno detto di fronte alle sollecitazioni del nostro Paolo Renzetti. Lei cosa pensa di questa sentenza di primo grado? Pensa che non essendoci prove certe e concrete sarebbe dovuto fare in modo un po' diverso. Quindi è fiducioso per il secondo grado? Fiducioso sì perché vedendo le altre, adesso siamo stati chiamati a difendere Catania e Teramo, tra il Catania e il Teramo ci sarà un abisso. Che devo pensare? È una sentenza ridicola che non tiene conto, cioè per essere conto a noi ci vogliono le prove certe al 100%, qua le prove certe tutte congetture e indizi io non le vedo, poi se qualcuno ha fatto qualcosa io non lo so perché io sono un tifoso del calcio giocato, a me delle aule tribunale non me ne frega. E' fiducioso per il secondo grado? E' la vera combina, la vera combina è stata fatta adesso con l'Ascoli e con altri soggetti. Secondo lei il Teramo dà fastidio a qualcuno nel palazzo? No, il Teramo dà fastidio perché ha dimostrato di essere il più forte, ha vinto il campionato veramente sul campo, cosa che non è successo per l'Ascoli. No, io non lo so, non lo seguo il pallone. No, avrà saputo? Sì, come no. Per Teramo è una brutta tecola? Soltanto. Ma Feneghe, se non dovete inserire, non ci vogliono, non l'avete capito ancora. Perché non vorrebbero il Teramo inserire? Questo secondo me è una questione di soldi, non lo so, ma qualcosa c'è sotto. E' una sentenza scandalosa, è scandalosa la sentenza. Perché? Tutto ha paurell'Ascoli, è complice Ascoli, è complice, perché da lì è partito. Lei è fiducioso per il secondo grado? Beh no, non sono fiducioso. Io sono fiducioso. Con questo ricorso. E al Presidente Campitelli cosa si sente di dire? E ti ha su colla. Deluso e dispiaciuto, perché siamo stati condannati su qualcosa che probabilmente non esiste, quindi aspettiamo, vediamo. Con fiducia? Ma certo che sì. Ma quello che ha fatto la richiesta, il giudice, che era? Palazzi? No, sì. Ma l'ugenza l'ha fatta? E' il genere di palazzi, vero? Ma non vengono le poltroni, insieme, no? Ma era una richiesta troppo eccessiva. Dopo tutti i massimedi e tutti con il terro. Ma è stata proprio una richiesta assurda. Secondo lei è una sentenza anche politica? Come no? Ascoli spinge. Fiducioso comunque per la sentenza. Come no? Adesso festeggerò gli Ascolani, i Forlivesi, il Gubbio. Dopo festeggeremo noi, 31. Restiamo in tema perché abbiamo anche ascoltato il primo cittadino, Maurizio Brucchi, nelle ultime ore più che mai frequenti gli incontri con il presidente Campitelli. Ieri, ad esempio, Campitelli e Brucchi si sono incontrati sia nel corso della mattinata, poco dopo aver conosciuto il verdetto di primo grado, ma poi si sono rincontrati anche in prima serata. Vediamo. Sindaco Brucchi, il giorno dopo la sentenza di primo grado sul Teramo, in città si respira un'aria pesante, rabbia, inquietudine, anche un po' di rassegnazione, preoccupazione. Continuando a leggere le carte, io non parlo da avvocato, faccio il sindaco, faccio un'altra professione, però guardando, leggendo le carte davvero, come dire, ci si sente un po' troppo danneggiati. Non si ha l'idea che sia stato utilizzato lo stesso peso e la stessa misura per tutte le situazioni. E questo fa ancora più male, però noi non ci abbattiamo, non si abbatte il Presidente, io sono stato con lui sia ieri mattina che ieri pomeriggio, stiamo lavorando, anche il Comune sta facendo delle valutazioni per capire bene quali sono le cose da fare e se si possono fare, sempre ovviamente, come dire, in accordo con il Teramo Calcio, qualcosa che sia, diciamo, come dire, che rafforzi la situazione. Siamo davvero fianco a fianco e non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. La battaglia è appena cominciata, c'è il secondo grado, noi siamo fiduciosi nel secondo grado. Ieri l'ho detto anche al Presidente Abodi, ieri ho parlato circa 40 minuti con il Presidente Abodi perché si era sparsa la voce che avrebbero messo nei calendari Ascoli. Io ho detto che è una cosa che non è possibile, bisogna mettere la X, o al limite mettere Teramo Ascoli entrambi. Mi è stato assicurato che verrà messa la X. Ho rappresentato anche al Presidente, da Sindaco, queste perplessità e queste preoccupazioni, anche perché lo stesso ordinamento di giustizia sportiva prevede che poi, in alcuni casi, sia il Sindaco proprio la figura che deve prendere in mano la squadra. E allora il Sindaco deve anche lavorare per tutelare la Teramo Calcio e la comunità teramana anche nella giustizia sportiva. Io ci credo ancora, perché credo in Campitelli, perché conosco Campitelli, quindi noi non ci stiamo assolutamente pensando, in queste ore ci stiamo concentrando su quello che è il ricorso. Invece la squadra prova con grande difficoltà a restare concentrata sul campo e questa sera ci sarà una amichevole a Perugia, allo stadio Curi, contro il Perugia. 22 giocatori convocati dal tecnico Vincenzo Vivarini. La gara inizierà alle 20.30, sarà diretta da Piccinini di Forlì, assistenti Bianchini e Biasini di Cesena. Nel verdetto di primo grado per l'inchiesta su Savona-Teramo è finita coinvolta anche l'Aquila Calcio che ha subito la penalizzazione di un punto per la responsabilità oggettiva riferibile al comportamento dell'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola. Contro questo verdetto l'Aquila Calcio ha già annunciato che farà appello, lo ha detto attraverso il legale di riferimento della società Flavia Tortorella. Vediamo. L'Aquila Calcio farà ricorso contro la sentenza che infligge alla squadra un punto di penalizzazione e 25 mila euro di ammenda. La sentenza di primo grado uscita ieri non rispecchia i risultati che la difesa dell'Aquila Calcio si era prefissata, pertanto andremo in appello per entrambe le decisioni perché per noi, vista la situazione delicata e complicata, la competenza della Corte è sinonimo di garanzia. Queste le parole dell'avvocato Flavia Tortorella, legale dell'Aquila Calcio, all'indomani della sentenza sulle prime due partite Savona-Teramo e Pisa-Torres. Domani, ha spiegato Tortorella, sarà depositato il ricorso in appello. Per quanto riguarda i diritti che l'Aquila Calcio potrebbe esercitare su Ercole di Nicola, l'avvocato spiega, non siamo giudici, in questo momento manteniamo su di lui il tono dubitativo. L'Aquila ovviamente prende le distanze dal suo ex tesserato, ma aspettiamo le sentenze e solo dopo aver compreso quali illeciti siano stati accertati, potremo pensare di esercitare i nostri diritti. La squadra intanto lavora al di là delle vicende giudiziarie che non devono condizionare la formazione rosso-blu. Ieri intanto un buon test di allenamento per l'Aquila contro il San Gregorio, formazione di promozione. Occasione anche per il mister Carlo Perrone per provare i nuovi arrivi e testare ancora una volta l'amalgama della squadra in vista dell'avvio del campionato. Buoni gli spunti venuti fuori da questo test di allenamento, ma c'è ancora molto da lavorare e qualche nesto da fare, anche in base alle eventuali cessioni. Al San Gregorio di mister De Angelis l'Aquila ha rifilato sette reti. A salvare la bandiera per la squadra locale è stata una rete di Marcone. Per l'Aquila in gol San Domenico con una doppietta De Francesco, Ceccarelli, anche lui autore di due reti, De Sousa e Triarico sul rigore. Anche oggi la squadra è impegnata in una doppia seduta di allenamento e domani altro test sul campo della miternina di mister Angelone, formazione di serie D. Il 29 agosto invece amichevole allo stadio Adriatico contro il Pescara a seguito della collaborazione instaurata quest'anno con la società Bianco-Azzurra che ha portato all'Aquila già diversi giocatori. La politica di spending review non piace molto ai tifosi, ma quest'anno, almeno su questo punto, c'è stata sempre chiarezza in società. Ma è più spese faraoniche, dicono. Il calcio d'agosto però non fa testo. Si aspetta intanto che cosa mister Perrone riuscirà a tirare fuori da una squadra giovane alla quale gli innesti di Piva e forse Conti, se si aggiungerà Rosso-Blu, potranno dare senz'altro un valore aggiunto. Lasciamo l'ampia pagina dedicata alle inchieste sul calcio e parliamo di politica, di sapori in regione. Continua il malcontento di Luciano Monticelli e dei due rappresentanti di Abruzzo Civico e si parla di imminente l'impasto in giunta. Aria di Maretta in regione. La storia non è nuova, ma ora se ne fa un gran parlare e forse si arriverà a qualche conclusione eclatante, come annunciato da uno dei protagonisti. I primi segnali si erano avvertiti al momento di votare per la chiusura dei punti nascita, quella che aveva tanto fatto discutere, indignare, manifestare e protestare migliaia di abruzzesi. A opporsi alla sua stessa maggioranza era stato proprio Luciano Monticelli, consigliere regionale, esponente del Partito Democratico ed ex sindaco di Pineto. Dall'in poi la disputa cortese di un braccio di ferro che ha così impedito almeno quella chiusura. Oggi ad unirsi al dissenso, sebbene per altre ragioni ci sono anche due rappresentanti, entrambi targati Abruzzo Civico. Si tratta dei consiglieri regionali Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. Sebbene nel loro caso i rapporti erano stati connotati da una delusione lunga 13 mesi, quella di non essere entrati in giunta come gruppo, oggi il loro dissenso si muove su temi quali cultura, sanità e decisioni non condivise. Restano ancora in attesa di veder colmata quell'assenza nelle poltrone decisionali. Infine la notizia di un imminente rimpasto di giunta. Sembra che il malcontento di Abruzzo Civico potrebbe giungere a una conclusione. Si parla di una sostituzione che in questo caso penalizzerebbe SEL, via l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca e dentro uno dei due rappresentanti succitati. Anche se per ora proprio Mazzocca smentisce la notizia e tira dritto. È stata fissata per le ore 15 di martedì 25 agosto a Roma presso la direzione generale di Trenitalia una riunione operativa propedeutica alla definizione dell'accordo relativo alla fermata del Freccia Bianca alla stazione di Vasto San Salvo a partire dalla prossima stagione. Si tratta di un grosso risultato dell'attuale governo regionale, ha commentato il sottosegretario D'Alessandro, visto che nel 2011 Trenitalia aveva deciso di chiudere sia la fermata di Giulianova che quella di Vasto. Adesso invece abbiamo ottenuto la riapertura di entrambe. Uno storico stabilimento di Pescara chiuso in una impalcatura da tantissimi anni. Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista chiede che venga ritirata la concessione all'imprenditore che a tutt'oggi non ha portato a termine quei lavori che deturbano una delle più belle cartoline della città. Prossima apertura. Così si legge da molti anni in uno dei luoghi più in vista di Pescara, il lungomare proprio accanto alla celebre nave di Cascella. Un luogo che funge da cartolina per i turisti e da salotto per i residenti. Maurizio Acerbo rimette al centro dell'attenzione l'incompiuta dello stabilimento Guerino e spiega le anomalie del caso. Una volta era un biglietto da visita, basta guardare le immagini di epoca. Da anni è stato dato in concessione, ha comprato la concessione, un potente esponente della economia locale, il quale però ha avviato dei lavori che non ha mai concluso. Ora si dà il caso che però è una concessione, non è sua, uno può non aggiustare casa sua, sono fatti suoi. Il Comune avrebbe il dovere di revocare la concessione perché è un servizio che arriva a Pescara, trova questo scatolone, al posto di trovare uno stabilimento operativo e funzionante. Anni fa io denunciai la cosa e il Comune invece di revocare la concessione dette una proroga all'ennesima proroga al titolare dicendo che si era impegnato entro un anno a fare tutti i lavori e a riavviare l'attività. Non è accaduto perché siamo ancora in questa situazione. Io mi domando cosa sta facendo il Comune, perché il compito del Comune non è tutelare gli amici delle amici, è tutelare la comunità. Una concessione demaniale prorogata ma senza mai un completamento effettivo dei lavori, un'area che resta chiusa e nel frattempo colleziona scritte e degrado. A Cerbora chiede che venga ritirata la concessione e rilasciata a qualche imprenditore capace di portare a termine quei lavori oppure di rendere pubblica l'intera area eliminando l'intera costruzione. Il demanio marittimo compreso gli stabilimenti balneari è proprietà comune di tutti e quindi se questo signore non vuole svolgere l'attività il Comune revocasse la concessione e la rimettesse a gara che ci sarà sicuro qualche imprenditore che vorrà far funzionare il buon vecchio Guerino. Credo che il sindaco Alessandrini abbia perso il senso della misura e soprattutto del rispetto per i 127 mila abitanti che dovrebbe amministrare senza contare tutti i turisti che avevano scelto di trascorrere le loro ferie a Pescara. Così il capogruppo di Forza Italia in regione Lorenzo Sospiri sull'emergenza balneazione appunto a Pescara ricordando il ritorno in commissione regionale vigilanza dell'assessore all'ambiente Mario Mazzocca del direttore dell'arte Damiani e della ASL per il prossimo 3 settembre lo sospiri ha parlato di quella data come di un V-Day giorno della verità su una vicenda piena di lacune e omissioni. pretenderemo, continua Sospiri, risposte su quando il comune ha avvisato la regione dello sversamento in mare, quando e se ha trasmesso alla regione l'ordinanza di divieto di balneazione e su come intende censurare la regione il comportamento del comune. E ora torniamo all'Aquila, l'opposizione in comune a suon di emendamenti pronta a dare battaglia sul bilancio comunale oltre 300 gli emendamenti in particolare sul sociale. Il bilancio di previsione del comune dell'Aquila arriverà in consiglio lunedì 24 agosto ma l'opposizione di centrodestra affila le armi ed è pronta ad accogliere e stravolgere il provvedimento con una raffica di emendamenti oltre 300 che spaziano dall'abbattimento dei costi per i Bonimenza al servizio pre-interscuola, ai trasporti scolastici passando anche per viabilità e opere pubbliche. Al nostro microfono Emanuele Imprudente, capogruppo di l'Aquila Città Aperta. Sì, abbiamo depositato presso la sedia del comune dell'Aquila 370 emendamenti che vanno a coprire dei vulnus che ci sono su tre tematiche di fondo speciale. Nello specifico sono circa 300 emendamenti riguardanti gli aumenti che questa amministrazione ha fatto ai servizi individuali a domanda riferiti alle scuole, mi riferisco ai buoni pasto, mi riferisco ai servizi interscuola e prescuola, mi riferisco al trasporto degli alunni, aumenti vertiginosi che raddoppiano in alcuni casi le tariffe e l'esborso di soldi che dovranno cacciare i cittadini aquilani. Abbiamo creato dei fondi per poter abbattere e rendere la situazione invariata rispetto all'anno scorso. Speriamo che l'amministrazione ci ascolti. Poi abbiamo strutturato un altro gruppo di vendamenti sulla sicurezza stradale, che è un altro vulnus di questa città, proponendo l'ultimazione della rotoria sulla Stadale Ottanta, del famoso Vallo di Pettino, proponendo la realizzazione di attraversamenti pedonali realzati, che hanno la doppia funzione di dissuasore di velocità e anche di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Poi abbiamo presentato altri vendamenti per l'ultimazione dello Stadio d'Acqua Santa, con la realizzazione e l'acquisto del tabellone luminoso e dei sergiolini colorati. Aveva reso la vita dei suoi genitori un inferno fatto di botte, minacce e sopprusi di ogni tipo per estorcere denaro, per acquistare la droga. L'uomo, un quarantente con problemi di tossicodipendenza residente nel Pescarese, è stato arrestato dalla compagnia di Pescara per i reati di estorsione continuata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Esasperati da anni di sopraffazioni a fronte di una escalation di violenza, i genitori sono stati costretti a denunciare il figlio fuori controllo e è arrivato a picchiare violentamente per l'ennesima volta sia la madre che il padre. Poi ancora un furto è stato commesso la notte scorsa all'interno del policlinico di Chieti dove i gnoti hanno portato via la cassaforte a mobile. Il forziere è stato trascinato all'esterno e verosimilmente caricato su di un'auto. Quell'area del policlinico è priva di telecamere di sorveglianza e dunque dei ladri non c'è traccia e non è dotata la stessa area neppure di impianto di allarme. L'allarme invece è stato dato nel corso della notte da uno degli addetti alla vigilanza del nosocomio. All'interno della cassaforte c'erano circa 2000 euro. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chieti. Il PD attacca l'amministrazione Brucchi sulla questione dei varchi ZTL nel centro della città di Teramo. L'esponente del centro-sinistra Manola Di Pasquale parla di pasticcio. Manola Di Pasquale, il Partito Democratico definisce un brutto pasticcio quello dei varchi ZTL nel centro di Teramo. Qual è la vostra opinione? Noi lo definiamo un brutto pasticcio oramai da tempo. Abbiamo chiesto già da tempo di interrompere questo marchigennio che è in movimento. Nei primi tre mesi sono state elevate circa 15.000 contravvenzioni, da cui bisognava capire che qualcosa non andava. In realtà il Comune non ha rispettato le prescrizioni ministeriali, quindi non ha fatto il periodo di prova di preesercizio. E scopriamo oggi che l'impianto non funzionava bene, che quindi nonostante ci fosse la scritta non attivo, l'impianto continuava a fare contravvenzioni, cioè a fotografare le macchine che entravano nella ZTL. Ma oltre a questo c'è stata un'errata comunicazione. Abbiamo 15.000 contravvenzioni a Teramo, che corrispondono a circa 1 milione e mezzo di valore. E il sindaco con questo in porta ha chiuso il bilancio, questa è la verità. Il bilancio preventivo è stato chiuso, mettendo la voce a recupero da contravvenzioni, 2 milioni di euro. Potrebbero partire ricorsi a questo punto da parte di molti cittadini, molti automobilisti? Allora, molti ricorsi sono già partiti perché abbiamo residenti che hanno preso oltre 130 contravvenzioni, cioè persone che ogni volta che uscivano e entravano dalla loro abitazione venivano contravvenzionati. E abbiamo disabili perché il tesserino del disabile non viene letto da questo impianto, che ogni volta che è entrato nella ZTL è stato contravvenzionato. Quindi abbiamo una situazione molto complessa e se le contravvenzioni non vengono impugnate, passano in giudicato, cioè diventano definitive e non potranno né essere rimborsate né più essere contestate. Quindi vanno comunque impugnate sempre. Grande successo per i festeggiamenti di San Franco a Francavilla al Mare e alle polemiche sui costi dell'amministrazione comunale. Risponde l'assessore al bilancio, Alibertini. Assessore, sono terminati i festeggiamenti a Francavilla, comunque siamo negli ultimi giorni e nelle ultime ore c'è stata qualche polemica per le spese dell'amministrazione comunale per le festività di San Franco. Noi abbiamo speso e spenderemo fino alla fine dell'anno tra le 4 e le 500 mila euro che rappresentano soltanto il 2% del nostro bilancio, delle nostre entrate. Questa cifra rapportata alle altre spese che abbiamo è veramente minima. Pensate che è soltanto un decimo delle spese del personale che abbiamo noi, è un decimo della spesa che sosteniamo per la raccolta rifiuti. Quindi penso che sia una cifra che questo bilancio, dopo che è stato risanato, può sopportare, che dia un'opportunità a Francavilla, a tutti gli operatori di Francavilla e anche dia in qualche modo il piacere di stare a Francavilla, ai turisti e agli stessi cittadini. I numeri dicono che questa è un'estate da record o quasi per Francavilla in tema di presenza. Beh sì, noi abbiamo avuto un aumento di presenze e penso che dipenda anche dal fatto che si è lavorato in questi 4 anni, non è soltanto questa estate. Abbiamo ridato credito a questo paese, abbiamo risanato il bilancio e di conseguenza quest'anno ci siamo potuti permettere un minimo di spesa in più che è stata riconosciuta e che ha dato quel di più che è stato riconosciuto da tutti. A San Giuliano una mostra fruibile anche da Ipovedenti che narra la storia dei 600 anni del convento con opere di Saturnino, Gatti e Bedeschini. I frati minori giunsero dall'Umbria per costruire poco lontano dalle mura cittadine il conventino di San Giuliano. Era l'anno 1415. Il luogo di preghiera fu poi ampliato per volere di San Giovanni da Capestrano nel 1452. A 600 anni di distanza dalla sua fondazione, la città si riappropria di uno dei luoghi più cari dello spirito attraverso una mostra dal titolo I sensi dell'arte e della fede, organizzata dall'associazione Aquilartes. Si tratta di un'esposizione multisensoriale in quanto potrà essere fruibile anche da Ipovedenti e non udenti grazie alla riproduzione di opere in 3D e a stazioni con traduzione in braille. La mostra resterà aperta fino al 24 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e narra la storia dei 600 anni del convento con opere di Saturnino Gatti e Bedeschini ma anche antiche pergamene, fra cui la bolla di Alessandro IV del 1256 ai Francescani. È fruibile anche a persone con disabilità sensoriali. Questo è stato reso possibile grazie a una preziosa collaborazione con l'Unione Ciechi e l'ente sordi della provincia dell'Aquila. La sezione documentaria è veramente molto ricca. Infatti copre un periodo che va dal XIII al XIX secolo. Le pergamene è stato possibile esporle grazie alla generosità di alcune persone che hanno dato un proprio contributo per restaurarle. I frati torneranno a dimorare stabilmente nel convento dopo la fine della mostra. La chiesa del complesso monastico è stata ristrutturata subito dopo il sisma. Tornata a nuova vita anche la parte del primo blocco con le abitazioni dei frati e la biblioteca. I lavori per il secondo blocco del complesso conventuale dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'anno. Quello sarà il vero e proprio centro della spiritualità. Un centro di spiritualità che sarà aperto ai giovani, alle famiglie, a coloro che ricercano Dio per corsi di esercizi, corsi di meditazione, educazione alla catechesi e alla parola di Dio perché c'è un bisogno straordinario all'Aquila più che altrove di ricostruire l'uomo interiore, di ricostruire lo spirito, i rapporti interpersonali. Proseguono gli eventi estivi, uno in particolare quello di Giulianova per il prossimo 22 agosto, cioè domani, si tratta della notte bianca dello shopping che punta sulla musica e sulla moda anni 50. Una notte dedicata allo shopping in una cornice tematica agli anni 50, con artisti provenienti dal più famoso dei festival, quello di Senigallia. Giulianova presenta I Love Shopping, un evento che coinvolge 110 attività commerciali aperte fino a tardanotte, in programma sabato 22 agosto. È un appuntamento bello, quindi vi invitiamo tutti quanti alla notte dello shopping in anni 50 e vi ricordiamo soprattutto l'abito a tema, anni 50. Ovviamente per chi proviene da fuori abbiamo allestito le aree di parcheggio che sono a nord e a sud, che saranno comunque bene attrezzate da questa notte, queste aree di parcheggio sono completamente gratuite. Tante le iniziative previste per la serata, premi dedicati ai look più curati, prezzi speciali da parte di tutte le attività commerciali, musica live e una città in festa. Questa notte dello shopping sarà stupenda di poco, logicamente, perché oltre al discorso di tante band che saranno presenti, appunto 12 band dislocate sulle vie principali, le vie dello shopping di Giulianova, quindi via Nazario Sauro, via Gorizia, via Lorsini, via Trieste, via Gasbarrini, saranno riempite da artisti, ma la cosa bella appunto e accattivante è il discorso degli sconti particolari che effettueranno tutte le attività, inizieremo già dalle 6 del pomeriggio a fare Baldoria. Avvisiamo tutti che ci sarà una premiazione per il vestito, sia in lui che lei, per il vestito più bello della serata. Ed ora parliamo della rassegna Voci della Montagna, che ha visto tra i protagonisti lo scrittore Vanni Santoni. Si è rinnovato nel dialogo con Vanni Santoni l'ottavo appuntamento del festival Voci della Montagna. Lo scrittore contemporaneo e giornalista, alla ribalta delle cronache e della critica per il suo romanzo Se fossi fuoco Ardera e Firenze, ha incontrato la folta platea nell'incantevole Valfondello di Opi per la presentazione della sua nuova opera letteraria, Muro di casse, un viaggio nei rave d'Europa, un romanzo autentico che ibrida la scrittura romanzesca con tratti di un reportage originale nei meandri delle notti di musica elettronica underground. Credo sia importantissimo supportare i festival indipendenti, specialmente nei territori fuori dalle grandi città dove magari c'è un surplus a volte quasi di festival, mentre se ne vedono meno in provincia e poi un luogo che di solito non ospita eventi letterari come una valle di montagna rende tutto ancora più suggestivo. Dalla narrazione della musica elettronica al repertorio classico e originale del trombettista Giuseppe Iacobucci del Marzican Brass Quintet, le cui musiche hanno spaziato dallo swing moderno ai grandi classici del cinema, uno spettacolo suggestivo senza precedenti. È stato veramente bello soprattutto appena arrivati perché non ci aspettavamo un contesto così bello e così caratteristico e soprattutto non ci aspettavamo questa bella risposta da parte del pubblico che ci ha aspettati fino all'ultimo e ci ha sostenuti fino all'ultimo. Ed ora riapriamo la pagina sportiva, ma non parliamo più di inchieste, ma parliamo un po' più di calcio giocato e di mercato, in particolare quello del Pescara ha poco più di una settimana dalla chiusura della sessione estiva. L'obiettivo principale per i biancazzurri resta l'attaccante dell'Atalanta, Richmond Boacima, ma si valutano anche delle alternative, ovviamente resta valido il nome di Galano del Bari, ma anche di Ceravolo della Ternana. Vediamo. Prosegue il pressing del Pescara per accapararsi le prestazioni di Richmond Boacì. L'attaccante ganese non rientra più nei piani del tecnico dell'Atalanta e di Reia. I biancazzurri sono ancora alla ricerca di quel giocatore che faccia compiere il salto di qualità ulteriore al reparto d'attacco e Boacì rappresenta una sorta di garanzia per la categoria, nonostante il calciatore non sia particolarmente contento di scendere in Serie B. La situazione però è destinata a definirsi nell'ultima settimana, quando la società orobica potrà valutare le offerte pervenute per il proprio giocatore e al momento ve ne sarebbero alcune anche dall'estero, Spagna e Olanda. Così il Delfino non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta al barese Cristian Galano, anche se il Robben delle Puglie ha un profilo diverso rispetto a Boacì. Si valuta anche il Ternano, Fabio Ceravolo. Nella rosa Atalantina ci sono altri due giocatori che interessano al tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Uno è il centrocampista Luigi Giorgi, ma anche l'ex Ascolano non gradisce scendere di categoria. L'altro è il difensore Giulies Cristiano del Grosso, anche se la difesa dopo l'arrivo di Crescenzi e il ritorno prossimo di Salamon è praticamente al completo. Sul fronte delle uscite è ufficiale la partenza del terzino Andrea Scrugli, approdato all'Akragas. L'Empoli continua a mantenere vivo l'interesse verso l'albanese Ledyen Memushay, mentre l'Entella, praticamente certa del ripescaggio in B, ha intensificato i contatti per il terzino Fabrizio Grillo. Con la valigia pronta anche Milicevic, Barbuti e Nilsen, offerti a diverse squadre di Lega Pro. Intanto domani pomeriggio un nuovo test per i biancazzurri di Oddo a Cepagatti contro la Torre Alex. E invece la Virtus Lanciano scenderà in campo tra poco meno di un'ora alle 20.30 allo Stadio Biondi contro una parigrado, ovvero il Bari, mentre nelle ultime ore è uscito dallo scoperto il vicepresidente Guglielmo Maio che si è fatto sentire per togliere quel velo di scetticismo che c'è intorno alla squadra per il mercato finora effettuato. Vediamo che cosa ha detto in questo servizio. Attorno alla Virtus Lanciano c'è troppo disfattismo, il progetto tecnico non sta venendo meno. Il vicepresidente Guglielmo Maio esce allo scoperto e difende il lavoro finora svolto dalla società e dal DS Leone. Parole pronunciate per replicare a quei tifosi che in strada o sui social dimostrano particolare scetticismo alla luce del mercato portato avanti dalla società e che secondo i sostenitori rossoneri ha indebolito la squadra rispetto allo scorso anno. Scetticismo alimentato dalla conferenza stampa di lunedì scorso del tecnico D'Aversa che ha detto di essere pronto a lavorare in qualsiasi condizione anche se il progetto tecnico intrapreso sta venendo meno. Parole che il vicepresidente Maio ha voluto interpretare come uno sprone, precisando che non ci sono problemi con D'Aversa che resta un riferimento, un punto fermo, ma il progetto tecnico va avanti. Il dirigente Frentano torna sulla gestione di Magnus Tröst specificando che è stato il difensore danese a chiedere di essere ceduto. Decisione presa senza nessuna possibilità di tornare indietro. Circa il caso Iemmello, la Virtus sta trovando un'intesa col Foggia pronto a riabbracciare l'attaccante che ha manifestato la volontà di tornare in terra dauna. Ma le spine che ora più tormentano il tecnico D'Aversa sono le partenze di due titolari come l'esterno piccolo e il centrocampista Paghera. Per il primo si è fatto avanti con una proposta ufficiale il Cesena. Su Paghera c'è la Ternana. Se le offerte dovessero salire ed essere ritenute congrue, i due giocatori partiranno con buona pace del tecnico Frentano. Dopotutto finché è aperto il mercato tutto può succedere nelle logiche delle entrate e delle uscite e Maio confida nelle capacità e nel fiuto del DS Leone di portare a Lanciano anche negli ultimi giorni dei calciatori all'inizio sconosciuti ma che proprio in Frentania sono esplosi. Intanto torna in auge la pista Alessio Cragno per il ruolo di portiere. Da completare i reparti di difesa e attacco dopo le defezioni di Troiost e quella imminente di Iemmello. Se non parte Paghera il centrocampo è al completo. Il vicepresidente Maio fa poi un accenno alla questione stadio e all'ampliamento dei settori distinti. È una questione di burocrazia. La deroga per i lavori non c'è ancora ma dovremmo ottenerla breve, ha chiusato il vicepresidente. Stasera intanto amichevole al Biondi contro la Parigrado Bari, fischio d'inizio alle ore 20 e 30. La vicenda Iemmello si sta chiudendo perché proprio oggi l'attaccante ha raggiunto Foggia dove verosimilmente giocherà anche il prossimo anno. Si attende soltanto l'ufficialità. Finisce qui invece l'edizione del TG6 che torna domani con la prima classica delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buona serata.